Il libro Rendere visibile l'apprendimento è una pubblicazione importante per questo contesto, il Brasile che sta investendo molto nell'educazione per la prima infanzia, per dare una qualità diversa dell'educazione per la prima infanzia, perché testimonia attraverso il lavoro fatto nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Reggio di quali possono essere gli strumenti, i modi con i quali gli insegnanti possono essere solidali ai processi di apprendimento dei bambini. È un libro che nasce da una ricerca realizzata a Reggio Emilia da pedagogisti, insegnanti, atelieristi dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Reggio insieme a un team di ricerca di Harvard Progetto Zero. È una ricerca, è il libro che ne è testimonianza, che cerca di dare delle interpretazioni a cosa significa gruppo di apprendimento, quali sono le condizioni che rendono possibile costruire un gruppo, un apprendimento, un apprendimento di gruppo, quale relazione c'è tra documentazione e valutazione. Quindi domande cruciali oggi per chi vuole provare a costruire un'educazione diversa, un'educazione che crei le condizioni per lo sviluppo di tutte le potenzialità dei bambini e delle bambine e che cerca di valorizzare la relazione tra l'individuo e il gruppo. Ci sono le soggettività, ma c'è il gruppo nel quale si costruiscono insieme gli apprendimenti, le regole della convivenza civile, creando quindi le condizioni per un benessere sociale differente e uno sviluppo diverso della società. Questo penso che siano sfide che riguardano tutto il mondo e certamente accompagnano anche una realtà come il Brasile in grande crescita, in grande fermento e che si sta interrogando sull'offrire una scuola diversa per i bambini più piccoli del proprio paese. Io spero che il libro contribua per che io possa conoscere mai di perto le esperienze, mi approfondare di forma a contribuire con quello che mi propusca a essere educadora, aproximare, inspirare-mi nessas esperienze, contribuire con la educazione, di onde io faccio educazione. A proposta pedagógica da escuta è reveladora per noi educatori, quindi c'è una grande lezione e un deseo di sempre accompagnare, di non perdere questi incontri che c'è con i profissioni di Reggio Emilia. Credo che è un momento importantissimo per la nostra Red Solare Latinoamérica, che la Red Solare Brasil ci ha invitato a qui e che abbia l'opportunità di avere la traduzione di questo meraviglioso libro che Reggio ci offre. Credo che è una ferramenta molto importante per tutti gli educatori, e, beh, grazie molto per la possibilità che ci abbia potuto fare, e di essere qui con tutti voi. Questo libro è una parte di uno dei registri della grande esperienza che è la Red, e, attraverso questa lettura, a luce di questa lettura, io spero poter contribuire per la instituzione dove io lavoro, e fare questa realtà europea, così distante, si tornare più prossima. Conhecendo la proposta Reggio Emilia e tendo l'opportunità di avere un libro per riflettere le memorie registrati di questa proposta, è meraviglioso, è un dialogo aberto. Quindi, noi stiamo iniziando questa parceria, questo è un libro referente, un libro histórico, un libro che nasce nel inizio del secolo, quindi già ha 14 anni, è molto attuale e conta storie e esperienze sorprendenti che le persone così piccole vivono e revelano un pensamento sofisticato, revelano la capacità di elaborare, nelle più differenti linguaggi expressi, le sue idee, la sua forma di vedere per si stesso, per l'altro, per il mondo, e, così, compreendere la vita e attuare nela, buscando vita ben vivida per tutti. Fui un lavoro meraviglioso, molta responsabilità, non è un libro facile di traduzire, perché c'è molte peculiarità e fali di bambini, 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 ma è un lavoro meraviglioso, che mi appassionò ancora più. Io già lavoro con Reggio Emilia ha 7 anni, ho a Reggio tutti i anni, accompagnando il gruppo di studi, traduzire il regimento, e a cada dia io gosto più di lavorare con questa temattica e con Reggio, che è realmente inspiratore. Come si dice in spagnolo, facendo il pensamento visible, è una aposta in comune, per fare che tutti i processi, che hanno tanto i bambini, in loro stazione di conoscenza, come i maestri, in loro stazione di organizazione, stazione di conoscenza di conoscenza di conoscenza, di conoscenza di conoscenza, e direzione, sto qui, sto in questo momento, questa è la mia perspectiva. E questo è quello che fa questo hermoso studio che, per due anni, a Reggio Emilia con Progetto Zero. Io venho studiando Reggio Emilia, e le proposti e i progetti, desde 2004, nel anno passato fui a Reggio, e tive a super experiência di conoscenza di conoscenza, di conoscenza di conoscenza, di conoscenza di conoscenza di conoscenza, per questo hermoso, per dare possibilità per le persone, di dare nuove strategie per le professori. De vero, per noi, è una importanza e un momento molto special, per sedere questo evento. Certo, per il riuscito di un libro, di un libro nuovo, dove il trà la visibilità della criança, la visibilità a partir della rappresentazione grafica della criança. Dentre i diversi aspecti della proposta di Loris Malaguzzi, è una delas. Quindi, noi stiamo molto felici, di vero, in accogliare tantissimi educatori, non solo del Brasil, come da America Latina. Per noi è un momento molto special. Noi solo abbiamo a agradecer a Red Solari e i educatori di Reggio Emilia.